e lì dice alla farmacista signori io tengo una signorina che ho trovato ma da 20 anni ma che lei c'è sta io lo so che c'è sta madonna un po' di viagra ti prego fammi fare sta botta e insomma questa gli dice sì sì te lo do subito intanto va dalla farmacista al capo e va a dire ma questa schiatta se gli do il viagra che devo fare tu fai una cosa ci da un po' di... prendi una spirina la schiaccia e ce la dai ah va bene lo faccio lo faccio e quello lo fa il signore ah grazie 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 lo faccio sapere il giorno dopo serranda ancora chiusa la gente a sistemare dentro i lavoratori i farmacisti e passa a sto vecchiarello e lo vedono fuori la serranda che fa così mannaggia santo niente ahahahah ma che cosa c'ha fatto ma c'è andato buono e questo continua a passare ahahahah ehi ma che c'hai dato c'ha citata l'aspirina e qui lo continuava No, no, io già li abberi mai, tu non c'hai dato l'aspirata, c'ho già l'aspirata, agite e chi lo continuava? Sempre di più, sempre di più. Alla fine va buono, no, sono troppo curioso di andare a vedere. Apre. Uè, insomma, signor, com'è andata? Una cazza di figura di merda. Brava.